Salve, se si può mangiare qualcosa. Sì, sì, te ne avresti anche bisogno. A me basterebbe proprio un boccone, un boccone amaro, amaro come la nostra esistenza ed il mondo che ti circonda, che in fin dei conti è niente, siamo tutti nello stesso spezzatino di corpi dani. Ecco, quello spezzatino che tu dici sei amaro, ma amaro bene, e lo fanno in un qui ristorante laggiù, ci si passa proprio avanti dai fallani, tu da lì a nome mio tu vedrai se lo fa amaro proprio come tu vuoi. Grazie. E sabana a te. E sabana a te e obellino adrizzati.